Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione a questo evento. Sono Ingegner Simoni, lavoro con l'assessore Montanari, porto i saluti della sindaca che purtroppo non può partecipare questa mattina a questo evento, che ovviamente ha ospitato, in quanto crede molto in questa collaborazione, in questi studi che riguardano l'uso del suolo e lo studio che riguarda anche la massimizzazione e l'efficienza nell'utilizzo del suolo con criteri ambientalmente compatibili. Il Roma ovviamente vuole programmare e progettare in modo scientifico l'utilizzo del suolo. Sappiamo quali sono le caratteristiche difficili in cui ci troviamo. Abbiamo cavità, abbiamo dissesti su Roma, in quanto il suolo di Roma ha diverse cavità sotterranee che ben conoscete, quindi anche la progettazione e la programmazione di costruzioni sul suolo richiede un'attenzione specifica. Su questo argomento, l'oggetto di studio e di proposte di progetti anche in ambito europeo ovviamente, stiamo attenzionando i diversi bandi europei per poter presentare i progetti come Roma Capitale, insieme a Ispra, insieme ai centri di ricerca ovviamente di statura internazionale e con i quali vogliamo portare avanti grandi strumenti di innovazione come quello che oggi verrà presentato e che grazie a Ispra è stato promosso e sarà promosso per ulteriori sviluppi di progetti che vogliamo portare avanti come Roma Capitale. Quindi vi ringrazio per essere qui e condividere con noi questo progetto e i nostri prossimi progetti. Siamo aperti nella condivisione di idee nuove ovviamente che riguardano il suolo, l'uso del suolo e ovviamente anche altri ambiti. Quindi sono a piena disposizione come assessorato ambiente, vi lascio ovviamente tutti i recapiti attraverso i colleghi per poter comunicare con noi e poter andare avanti su nuove iniziative. Lascio la parola quindi a questo punto al direttore dell'Ispra, il dottor Laporta, che fa i suoi saluti e vi ringrazio a tutti ancora. Grazie.